Buon lunedì 22 novembre, solo le 9.46 e siamo dal vivo sui mercati. Per chi si fosse perso l'analisi ciclica evoluta su MIB e su DAX settimanale, il suggerimento è di andarla a recuperare sul canale. Anche perché è importante, perché serve a fare dei distinguo tra cosa può succedere, perché ci sono due opzioni interessanti e le ho illustrate nelle varie analisi del weekend, in cui mi prendo più tempo per ragionare anche sui cicli maggiori, i superiori, che sono fondamentali per capire dove stiamo andando. Oltretutto, ogni tanto su Investing non vengono caricati i video, per cui il suggerimento è raggiungetemi direttamente sul canale che conoscete. Allora, facciamo un po' i conti, d'accordo? Prima di tutto, un T settimanale, questo, può tranquillamente fermarsi a 7T-3 con un settimo T-3 ribassista. Quindi noi dobbiamo capire se da questo minimo è partito, anzi da questo minimo è partito un nuovo settimanale, sta provando a partire un nuovo settimanale, oppure se torneremo sotto questo minimo qui. Per cui, come fare a sapere in quale delle due opzioni siamo? Abbiamo, anche in questo caso, swing inverso, volumi e tutto il resto. Ovvero, se il quarto T-3 inverso avesse chiuso su questo massimo, a 25 barre, noi continueremo a salire perché il quinto si sarebbe già vincolato a rialzo per quanto riguarda l'indice, vincolato a ribasso per quanto riguarda l'inverso, ovvero salita di prezzi. Se invece stessimo ancora cercando la chiusura del quarto T-3 inverso, e guardate quante candele verdi ci sono in quest'area, tantissimi volumi che spingono verso l'alto, saremo ancora a 37 e potremo ancora salire fino a 44, e fino quindi a che ora? fino alle 11.45, fino a mezzogiorno meno un quarto. Importante quindi monitorare fino a mezzogiorno meno un quarto che cosa succede, perché se invece iniziassimo a perdere quota, per via della divergenza che però, vi ripeto, è l'ultima cosa da guardare su un grafico, se operate con analisi ciclica voluta, la divergenza ci dice ribasso invece, una divergenza di continuazione ribassista. Massimi decrescenti, massimi crescenti. Per cui si dovrebbe andare giù, ma si andrà solo esclusivamente se da qui non sarà partito il quinto T-3 inverso, che potrebbe peraltro andare a chiudere il primo T-1 inverso, il primo ciclo a 4-5 giorni inverso, che ha fatto così, e che potrebbe magari avere come target peraltro un arrivo, un approdo alla media mobile a 50 periodi. Se già non ci arrivasse, iniziassimo a prendere smalto strano, perché vedo solo candele verdi nell'ultima porzione di grafico, nel qual caso sappiamo che lo swing di riferimento è questo per andare short prima delle 24 candele, come al solito. Quindi qui l'operatività è molto semplice. Sotto i 27.163 valutiamo uno short, nei tempi ciclici corretti sempre, attendiamo di vedere entro le 12 che cosa succede, se continuiamo ad aggiornare i massimi o meno, e se non lo facciamo più, iniziamo a ragionare sul tempo dell'indice. Questo non ve lo sto a far rivedere, perché l'abbiamo visto appunto nel weekend. Per quanto riguarda il DAX, DAX è un ragionamento molto simile, anche in questo caso l'ottavo t-3 può tranquillamente essere andato a chiudere il t settimanale iniziato di sotto. Abbiamo già fatto però due violazioni importanti di swing, compreso quello per la partenza da qui sopra di un nuovo t settimanale, anche se qui tenderei a mettere un raccordo, ma devo controllare se è corretta la cosa, in termini di tempo, e poi una partenza discensiva con un primo t-3 qui. Anche in questo caso, a seconda di dove andrà a chiudere il nostro secondo t-3, inverso, potremmo capire se si continuerà la discesa o se si inizierà a salire. Importante, anche in questo caso, andarsi a prendere le barre d'inverso. Se l'inverso avesse chiuso qui, a 34 barre, iniziassimo una discesa, sarebbe un tipo di discorso da fare. Se invece si fosse chiuso con questo movimento qua, a 26 barre, a quel punto lì, saremmo già vincolati a continuare a salire, perché il massimo di partenza sarebbe stato superato dal massimo successivo. Per cui, da qui sta partendo che cosa? Un ciclo settimanale, oppure nono t-3 che fa una finta rialzo e poi ritorna sotto questo swing a 16.092, dove peraltro appunto ragionerei di uno short, ma sempre nei tempi ciclici corretti, e siamo a 18 barre, tra l'altro in questo momento non sarebbe molto profittevole valutare uno short attendendo questo punto qua. Avrebbe avuto senso iniziare a prenderlo da qui, ma come sapete, le prime candele sono di finte contro finte, quindi fino alle 10.01 mediamente non operiamo, a meno che non ci siano delle operazioni interessanti da fare. Vi faccio notare, peraltro, che nonostante la divergenza ribassista negata, con l'apertura che abbiamo avuto oggi, abbiamo che la media mobile a 50 periodi sta per andare in death cross e quindi a spingere giù i corsi teoricamente, a meno che, come al solito, non venga negata a colpi di HFT che ci sparano verso l'alto. Quindi anche questo è importante come cosa da vedere, e vedete che oltretutto rispetto al Nib, il Dax ha più candele rosse che verdi, esattamente il contrario, e la situazione ciclica relativa alla sua squadratura ci dice oltretutto che ci sono un paio di possibilità in atto, per cui, anche in questo caso, possiamo solo dire che lo swing per un nuovo T, un nuovo settimanale inverso, è stato comunque violato, il tempo c'è per cui da qui o da qui è partito appunto un nuovo ciclo settimanale inverso che può spingerci verso il basso, vediamo quanta forza avrà a questo punto. Direi che è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, e come al solito, mi raccomando, partiamo bene con la settimana, io lo farò sicuramente perché già vado nella società di investimenti che è fatta di persone tecniche che mi piacciono tantissimo e di zero commerciali, quindi mi trovo molto mio agio. Arrivederci! Grazie! Grazie!